Si celebra oggi, lunedì 24 aprile, la giornata mondiale contro la meningite, istituita per diffondere conoscenze e sempre maggior consapevolezza su questa malattia, nelle sue diverse forme e sui rischi e soprattutto per promuovere l'adesione alla vaccinazione, come principale arma per ridurre il numero dei casi e delle forme più letali. La meningite, una malattia che colpisce le meningi, cioè le membrane che ricoprono e proteggono cervello e midollo spinale, è di origine infettiva e può essere causata da virus, batteri, miceti o protozoi, ma è la forma batterica quella che può dare origine a forme molto gravi, anche con conseguenze fatali quando si associa con la sepsi meningococcica. Da qui, come sottolinea l'assessore alla sanità di Regione Liguria, Angelo Grattarola, l'importanza di diffondere le informazioni sulla meningite a tutta la popolazione, con particolare focus sulle vaccinazioni che sono molto efficaci e garantite dal sistema sanitario pubblico. Fortunatamente, come spiega Matteo Bassetti, coordinatore del DIAR Malattie Infettive di Alisa, pur rimanendo la meningita un'infezione molto importante, gravata da un'elevata letalità, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione dell'incidenza delle meningite in etapa pediatrica, grazie alle vaccinazioni per l'emofilo e per lo pneumococco, ed anche ad una riduzione delle meningite negli adolescenti e nella post-adolescenza, grazie alle vaccinazioni per il meningococco B e C. È per questo che si deve fare in modo che sempre più bambini ed adolescenti si vaccinino per la meningite, ribadisce Bassetti. Con una copertura vaccinale del 100%, infatti, si potrebbero di fatto annullare almeno questi quattro tipi di meningite, che sono comunque più frequenti e con le forme più aggressive mortali.